Il progetto ritorna proprio dopo due anni di pausa forzata, ritorna già in autunno quest'anno, inizieremo la prossima settimana l'11 ottobre, faremo delle sessioni di teoria e delle sessioni di pratica alternate circa a 15 giorni di distanza l'una dall'altra. Quest'anno abbiamo la soddisfazione di avere 1.350 ragazzi che parteciperanno, quindi la totalità dei ragazzi frequentanti le quinte superiori della provincia di Belluno.